Il Teatro Marruccino presenta la stagione sinfonica e di prosa. Nel foyer il direttore artistico Ettore Pellegrino, assieme al delegato alla cultura del comune di Chieti Fabrizio Di Stefano, ha illustrato alla stampa i due programmi. Si inizia il 21 dicembre con Natale in casa Nazareth e si prosegue da gennaio a marzo con un ciclo dedicato a Beethoven. Quanto riguarda la stagione sinfonica, apriremo con un concerto di Natale chiamato Natale in casa Nazareth, una produzione tutta abruzzese che vedrà sul palcoscenico il coro delle voci bianche del Teatro Marruccino e l'orchestra sinfonica abruzzese. Le musiche sono di Luciano Di Giandomenico, i testi di Biondi. Dopodiché tra febbraio e marzo porterò sul palcoscenico l'integrale dei cinque concerti di Beethoven per pianoforte e orchestra, con solisti d'eccezione come Michele Campanella, Benedetto Lupo e Andrea Lucchesini, con direttori d'orchestra come Massimiliano Stefanelli e Alvise Casellati. E questo sarà un ciclo che si concluderà con tre concerti. Sarà una piccola rassegna sinfonica che porterò al Teatro Marruccino e anche negli altri capoluoghi di provincia. Il cartellone di prosa, organizzato con la consulenza dell'attrice ortonese Federica Di Martino, ha in programma sei appuntamenti, tre commedie e tre drammi classici. Tra i nomi di Spicco, Paolo Ferrari, Andrea Giordana, Diego Abbatantuono, Tosca e Lucrezia Lante della Rovere. La cosa diciamo su cui ho puntato per questo cartellone è stata avere in Chieti dei riallestimenti. Ci sono due compagnie che riallestiscono. Una è quella di Diego Abbatantuono, alla sua prima regia teatrale, che ha debuttato con questo spettacolo che si chiama Vengo a prenderti stasera al Festival di Spoleto e viene appunto a riallestire a Chieti. Avremo tutta la compagnia e Abbatantuono quattro giorni in città. Lo stesso discorso vale per La Trappola di Gabriele Lavia, che è uno spettacolo tratto dalla novella di Pirandello La Trappola e che verrà a riallestire in Chieti, questo alla fine di febbraio. Poi abbiamo un debutto nazionale, uno spettacolo scritto da Giordano Bruno Guerri su Gabriele D'Annunzio, interpretato da Edoardo Silos Labini. e per chiudere in aprile abbiamo un altro Pirandello, ci è sembrato interessante puntare su D'Annunzio e Pirandello come autori per quest'anno e abbiamo il Come tu mi vuoi, interpretato da Lucrezia Lante della Rovere.